Dalla Sky Race di Limone mi aspetto innanzitutto un grande divertimento perché il percorso è molto impegnativo ma anche molto bello. Parte dal lago per poi inerpicarsi su per le montagne, per sentieri bellissimi e per delle creste che non ti aspetteresti mai di trovare sicuramente al lago. Vi auguro di fare una bellissima Limone Extreme, che facciano un bel risultato sportivo ma che soprattutto si divertano e che non fatichino proprio troppo. Grazie a tutti.